ciao benvenuti nel mio canale cosa sto facendo dunque sto cercando nel mio computer le mie fotografie astronomiche come vedete ho tutta la sezione con le fotografie che ho fatto al telescopio perché voglio rifare la prima immagine che vedete quando entrate nel mio canale queste sono macchie solari le ho fatte vedete qua questa sono io eccomi qua pronta a farle foto dunque ok questo il mio telescopio adesso mi sono persa non dovevo mettere queste immagini e vabbè dunque niente stori facendo praticamente con powerpoint le fotografie perché voglio rifare il filmato mettere qualcosa di nuovo mettere un po più carine per cui le vado a prendere ovviamente adesso cancelliamo questa le vado a prendere sul mio archivio che è qui ce le ho tutte su un disco dove ho tutte le immagini ecco astronomia come vedete io anno per anno e poi ho anche divise o giove luna saturno questo qui e sole e sto prendendo appunto le immagini migliore e le sto mettendo come immagini su powerpoint per poi trasformarle in un filmato e farvele vedere insomma ne ho veramente parecchie perché il telescopio mi è stato regalato nel 2013 guardate ve ne faccio vedere una che bellissima eccola qua la vedete la ingrandisco anche così la potete vedere bene queste sono macchie solari che si formano sul sole io posso vedere al telescopio perché uso un filtro che si chiama astro solar e mi permette di vederle senza bruciarmi gli occhi ovviamente il filtro astro solar visto che già siamo qui e c'erano le mie fotografie vi faccio vedere vediamo un po si dovrebbe vedere qui si sulla fotografia di prima esatto viene messo in questa posizione vedete lo attacco per precauzione anche con dello scotch vedete che riflette in effetti assomiglia un pochino a quella quella carta metallizzata che usiamo in cucina ma non è proprio la stessa cosa ecco questo mi permette di guardare nel telescopio e fare le fotografie senza bruciarmi gli occhi questa sono io ma mi conoscete già perché mi avete visto nei vlog questo invece è un carrellino che uso per portare in giro questo telescopio altrimenti dovrei dividerlo a metà però più avanti vi farò un pochino anche vedere com'è il telescopio in un altro filmato e adesso niente vi lascio vi auguro un buon pomeriggio oggi una bellissima giornata di sole finalmente se volete tornare a trovarmi sul mio canale troverete sempre qualche cosa di nuovo niente vi ringrazio mettete un like se volete iscrivervi e non siete iscritti ricordatevi di azionare la camp come fate voi la campanella si così almeno riceverete anche tutti gli aggiornamenti quando metterò qualche nuovo filmato insomma qualche cosa di nuovo vi lascio con questo sole in mezzo alle nuvole ciao a tutti da mixer e mix